Musica Ben trovati a questa nuova puntata di Talk Sicilia l'anno che abbiamo appena trascorso è stato un anno difficile e complicato quello che ci apprestiamo appunto a festeggiare proprio in questi giorni è pieno davvero di incognite ma una certezza c'è perché dal 2 gennaio partono i saldi e adesso vedremo appunto col nostro ospite che segue queste vicende da tantissimi anni che è Alfio Larosa, presidente regionale di Feder Consumatori Salve Salve a te Salve Allora vedremo appunto, seguiremoci da degli ottimi consigli per evitare quelle che possono essere le truffe perché i saldi sono una cosa importante tutti dicono che possono dare un impulso al settore è pure vero che ci sono anche i furbi purtroppo quindi c'è Feder Consumatori c'è Feder Consumatori anche per questo e allora è sicuramente una notizia che tanti cittadini siciliani aspettano per cercare appunto di quegli acquisti fare quegli acquisti che magari per il budget carabollette, poi lo vedremo anche dopo hanno un po' rimandato ma come si fa a non farsi fregare? Beh, soprattutto bisogna pensarci un po' prima attenzionare il prodotto, la merce che si vuole acquistare verificare se il prezzo, il prezzo diciamo con un po' di anticipo rispetto ai saldi e verificare poi effettivamente se quel prodotto, quella merce che si vuole acquistare corrisponde diciamo a un effettivo sconto rispetto al prodotto visto in precedenza questo è uno dei consigli principali addirittura sarebbe bene anche fotografarlo andare in giro qualche tempo prima dei saldi per i negozi e ripeto, individuare l'oggetto o gli oggetti che si vogliono acquistare perché è importante diciamo questo momento dei saldi? perché anche oggi Conf Commercio, Conf Esercenti parlano appunto di una necessità di dare impulso a questo settore che sicuramente ha avuto colpi notevoli durante la pandemia che è messo a rischio da quello che è la vendita online perché non diciamo appunto che è sicuramente un settore che è molto penalizzato dall'uso diciamo appunto di grandi non facciamo nomi per non fare pubblicità ma di grandi marchi che appunto vendono quasi tutto online e quindi i saldi possono avere effettivamente possono dare un input qualcosa appunto per cercare di aumentare i fatturati e ci sono voi come fede al consumatore ogni anno date appunto quelli che sono diciamo i punti dei salienti per cercare appunto di fare un affare e non essere fregati quali sono? ne snocciulemo alcuni così ecco l'altro sicuramente quello oltre al primo che diciamo è di carattere generale che vorrei dare che è sempre utile anche se è un'occasione importante per acquistare prodotti o merch naturalmente bisogna sempre stare attenti a comprare a non lasciarsi andare diciamo alla necessità di comprare ad ogni costo ma bisogna diciamo individuare le cose che servono che servono effettivamente questo è un principio sano che dovrebbe spingere tutti prima dell'acquisto l'altra questione oltre appunto a verificare il prodotto un po' prima o la merce un po' prima l'altra questione che salta subito all'occhio è stare attenti agli eccessivi ribassi essere uno sconto pari o superiore al 60% corre il rischio di essere una truffa diciamo con prezzo non corrispondente al vero nel senso che si fa il trucchetto diciamo di aumentare oppure è merce contraffatta ecco l'altra questione che diciamo in questo senso deneggia anche i commercianti che invece sono onesti in rapporto alla questione questo sicuramente è una delle questioni da attenzionare prima di fare qualunque acquisto insomma sì ci sono delle novità che sono state introdotte proprio in questi anni perché praticamente finalmente diciamo lo Stato il 2 dicembre ha recepito alcune normative europee e diciamo che danno delle indicazioni più stringenti ai commercianti non basta semplicemente mettere soltanto alcuni dati ma ne devono essere messi alcuni più specifici ci puoi indicare quali sono questi? sono dei criteri diciamo più stringenti rispetto alla precedente normativa e obbliga diciamo a una certa trasparenza i commercianti uno riguarda quello del prezzo va indicato il prezzo effettivo della merce e anche il prezzo scontato non soltanto diciamo la percentuale di sconto quindi questo è un aspetto importante e naturalmente l'altro aspetto importante è che il prezzo di riferimento deve essere quello di 30 giorni prima quindi non ci possono fare cambiamenti dell'ultima ora e poi aumentare e poi ridurre bisogna prendere il riferimento dei 30 giorni prima e poi questo però tutto sta perché non ci sono controlli non ci sono controlli tutto sta alla serietà di chi vende alla serietà di chi vende per questo dicevo che era importante che invece il cittadino diciamo un mese prima si tutelasse guardando andando in giro e cercando di vedere quello che effettivamente gli serve insomma quelle segnalazioni più strane che vi sono arrivate dico penso immagino come fete al consumatore ricevete diciamo tantissime segnalazioni da parte degli utenti le più strane, quello che succede in linea di massima spesso alcuni chiedono di non utilizzare il post diciamo sono cose abbastanza normali basta chiederlo o cambiare chiaramente venditore eventualmente una cosa del genere quindi vi arrivano queste segnalazioni anche queste segnalazioni arrivano a fete al consumatore nei nostri sportelli di particolare niente insomma questo per esempio è uno degli aspetti l'altro è quando soprattutto non c'è l'obbligo di prova per esempio degli indumenti o della merce che si vuole acquistare però in genere i commercianti fanno fare anche la prova insomma e in genere non ci sono difficoltà diciamo anche nei cambi naturalmente se uno mantiene lo scontrino perché dico ci sono anche dei giorni per cui il prodotto può essere cambiato ci sono tutta una serie di regole ci sono tutta una serie di regole che diciamo con un buon rapporto tra il venditore e il consumatore possono essere risolte teniamo presente che insomma tutti i prodotti in ogni caso sono soggetti a garanzia naturalmente come tutte le cose e quindi dico adesso ci apprestemo appunto a questi saldi altri consigli da dare appunto ai consumatori su quanto appunto devono stare attenti per fare l'affare? ripeto l'affare diciamo noi l'affare è sempre molto difficile diciamo da individuare ripeto bisogna avere delle certezze io credo che diciamo anche se è una grande occasione questa qui dei saldi piano piano sta acquisendo sempre maggiore importanza rispetto a quello che avviene perché come dicevi giustamente c'è tutta la questione delle commerce naturalmente ma ci sono delle continue promozioni durante il corso dell'anno una in particolare avviene addirittura pochi giorni prima dei saldi che è il Black Friday famoso insomma in cui effettivamente diciamo soprattutto online ma anche i negozianti fisici hanno cominciato a utilizzarlo ed effettivamente lì ci sono si sono la gente abbastanza soddisfatto ha acquistato dei prodotti ed è molto soddisfatta di questa iniziativa per cui la questione dei saldi invernali o estivi sta sempre acquisendo una minore importanza non a caso pensiamo che tutto sommato forse ci si avvicina il momento di liberalizzare queste promozioni non relegandole soltanto non relegandole soltanto a quel periodo al commerciante perché questo avviene teniamo presente anche che in genere fanno dei presaldi i venditori fanno dei presaldi soprattutto ai clienti più vicini arrivano gli sms o la whatsapp delle proposte quello che invece abbiamo notato e ci preoccupa un po' è che diciamo da un po' di tempo non c'è come dire una certezza del prezzo del prezzo effettivo dei prodotti che si acquistano delle merci che si acquistano nel senso che certe situazioni sono difficili da spiegare non lo so c'è il lancio di uno smartphone e costa 1000 euro passano tre mesi e costa 600 euro si dà un disvalore diciamo del prodotto che è incomprensibile abbiamo fatto una ricerca per esempio nell'ambito dei prodotti diciamo di uso domestico lavabiancheria o cose di questo tipo troviamo una lavabiancheria che in un negozio costa 1099 vai nel sito del produttore e online costa 549 euro se andiamo poi ritorniamo nel negozio fisico anche con lo sconto del 20-30% sarà sempre più caro di prenderlo online è una situazione diciamo preoccupante per questo forse la liberalizzazione delle promozioni e di tutto il percorso potrebbe aiutare oggi soprattutto aiuta moltissimo le persone più grandi le famiglie le persone più anziane perché effettivamente non hanno la capacità di come dire di guardare attraverso internet di andare online a verificare i prezzi i prodotti eccetera eccetera e quindi diciamo effettivamente è un ottimo strumento però credo che diciamo piano piano dobbiamo andare al superamento di questa cosa superamento che secondo me è nei fatti perché noi infatti non è un caso che stimiamo questo già in ambito nazionale meno del 25% delle famiglie andranno a comprare in questo periodo di saldi anche perché c'è un aumento dei costi perché c'è un aumento dei costi perché c'è stato già un aumento di alcuni di alcuni elementi importanti di vita quotidiana che è quello del costo dell'energia dell'elettricità e del gas ma anche dell'alimentazione ricordiamoci che l'aumento dell'inflazione aumento dell'inflazione che in particolare è stata è più del 10% che dicono a parte che in Sicilia è stata più alta che il resto d'Italia eccetera eccetera tanto è vero che noi stimiamo in aumento rispetto a caroenergia e caroenergia che sicuramente per il prossimo anno noi prevediamo intorno al 40% di aumento e sia dell'alimentare intorno al 10% porterà un grave per le famiglie di oltre di circa 2400 euro rispetto all'anno precedente quindi sono cifre estremamente importanti che vanno che vanno attenzionate mi viene in mente anche un ultimo dato che riguarda l'energia in cui si è verificato che circa gran parte dei risparmi la gente ha utilizzato gran parte dei risparmi per pagare le bollette dell'energia elettrica quindi si sono abbassati notevolmente e quindi meno soldi anche meno soldi da spendere e meno soldi da spendere per i saldi anche perché il futuro è ancora abbastanza incerso esatto su questo infatti torniamo sicuramente perché per quanto riguarda queste nuove norme questa nuova direttiva europea che devono seguire i commercianti ricordiamo che ci sono anche delle multe salate perché se queste cose non vengono seguite si rischiano ammende che vanno da 5000 euro addirittura a 10 milioni di euro nei casi più gravi sicuramente si stava parlando di grandi centri commerciali di grandi organizzazioni comunque queste sono le somme le somme da pagare quindi dicevamo appunto che oggettivamente tornando al discorso caro bollette noi qualche tempo fa ci siamo incontrati abbiamo parlato abbiamo fatto appunto tutta una una trasmissione quando c'era proprio il adesso un po' la situazione si è leggermente mitigata ma nel 2023 che succede? diciamo che la situazione non è che è molto molto rosa la guerra è ancora in corso non ci sono diciamo al momento possibilità diciamo almeno si parla di possibili trattative di pace ma ancora tuttora diciamo di concreto non c'è nulla quindi se leggiamo continuamente che mentre l'energia elettrica dovrebbe abbassare sempre nell'aumento invece il gas dovrebbe addirittura aumentare del 20% allora che periodo si prospetta? eh niente diciamo è senz'altro positivo questo abbassamento di circa il 20% del costo dell'energia che naturalmente ha copiato all'aumento del prezzo del gas ma da noi diciamo effettivamente è più importante l'energia elettrica che il gas diciamo che in genere si consuma per il riscaldamento è più al nord rispetto a questo però sappiamo sappiamo che è un momento e sappiamo anche le previsioni sono di abbassamenti ma anche di possibili aumenti a breve soprattutto il prossimo anno e teniamo presente che sarà soprattutto l'inverno uno dei momenti più importanti per capire l'evoluzione perché c'è più necessità di energia e quindi c'è il rischio che speculazioni riprendano speculazioni di alto livello possano riprendere e possa diciamo di nuovo aumentare il costo dell'energia quindi molta molta attenzione delle famiglie credo che già ci sia senza bisogno di appelli ulteriore da parte nostra nel risparmio nel risparmio nell'attenzione alle spese naturalmente questo si abbina anche all'aumento dei mutui al costo al costo al costo del denaro che aumenta quindi attenzione diciamo anche qui diciamo che questo non è proprio un periodo diciamo a fare acquisti in credito per contrarre mutui ma neanche di acquistare prodotti al consumo a rate perché diciamo il periodo già diciamo la stessa la guard della banca europea ha detto che probabilmente era uno dei primi aumenti che ce ne sarebbero stati altri in futuro quindi diciamo la situazione è molto incerta la situazione in particolare del gas collegata alla guerra la vedete tutti ancora è del tutto incerta neanche uno spiraglio di come dire di pausa di sosta di tregua nel periodo in questo periodo di vacanze quindi diciamo non c'è nessuna nessuna prospettiva le prospettive non sono molto rose quante famiglie si sono rivolte al FEDER e consumatori per quanto riguarda appunto l'aumento delle bollette per chiedere chiedimenti per chiedere queste tantissime per ratizzazioni noi in genere in genere da da noi ai nostri sportelli vengono le persone e diciamo il settore più importante più trainante dove vengono più più persone più famiglie è stato finora quello della telefonia ma in quest'ultimo periodo c'è stato un esplice per via delle tariffe tariffe che cambiano modificano tutto questo settore sulle fatture aumenti e quant'altro diciamo anche lì si va dalle piccole truffe dalle telefonate oppure a dei contratti veramente truffe e invece è aumentato notevolmente in maniera veramente importante rilevante tanto da diventare molto spesso in alcuni sportelli addirittura l'elemento più importante e fondamentale le domande sono naturalmente alla più semplice quale venditore mi consiglia rispetto a questo ma naturalmente diciamo ancora non c'è una liberalizzazione vera totale complessiva diciamolo che c'è un po' di cartello sì nel senso che ancora c'è il mercato vincolato e quindi ancora ci sono tantissime persone che hanno il vecchio contratto con con l'Enel che adesso si chiama servizio elettrico nazionale ci sono molti ventitori e noi siamo anche qui molto preoccupati perché questa liberalizzazione sta avvenendo con un con un mercato non ancora pienamente maturo per esempio ci sono molti ventitori alcuni ancora non affidabili che sono appena entrati nel mercato sono veramente veramente tantissimi ventitori che facevano altro e che si sono improvvisati improvvisati in questa vicenda tant'è vero che tutta la situazione degli aumenti progressivi c'erano ci sono state aziende e imprese venditrici di energia che hanno proposto dei contratti a tasso fisso a prezzo fisso che sono entrati in crisi visto poi l'aumento tutto questo era per fare clientela rispetto agli altri ma si sono trovati in difficoltà non c'è non è ancora previsto un albo dei venditori con certi requisiti appunto di qualità di garanzia per i cittadini per i consumatori tutto questo ci preoccupa per cui pensiamo che diciamo sia il caso noi diciamo avevamo già chiesto che il mercato del gas che doveva essere liberalizzato è stato spostato al 2024 così come dovrebbe essere quello dell'energia chiediamo diciamo o si fanno degli interventi strutturali perché quello non si è fatto sono stati dati 21 miliardi a imprese e famiglie gran parte devo dire più alle imprese che alle famiglie devo dire sono state accettate alcune delle questioni che noi avevamo poste ma altre no non ci sono radicalizzazioni lunghe per le famiglie non c'è il blocco diciamo dell'amorosità per le famiglie ma soprattutto non c'è il cambio strutturale di come di come si costruisce la tariffa il costo dell'energia eccetera eccetera questi sono elementi strutturali importanti senza il quale noi crediamo che una liberalizzazione piena non si possa fare insomma bene io ringrazio davvero Alfio La Rosa presidente di Feder Consumatori Sicilia come vedete abbiamo affrontato tantissimi temi partendo dai saldi e arrivando alle bollette sempre per tutelare le tasche dei consumatori che sono sempre quelli più indifesi in questo naturalmente lo possiamo dire sicuramente sono quelli proprio in balia di tutto diciamo e allora io ringrazio davvero Alfio La Rosa spero di averlo ospite per altre puntate sempre appunto su questi temi che sono sempre molto molto interessanti io vi ringrazio saluto appunto Alfio saluto te telespettatori Alfio La Rosa e allora io vi do appuntamento alla prossima puntata di Talk Sicilia